buonasera buonasera a tutti un'altra puntata di tam tam parliamo di protezione civile ne parliamo con qualcuno che ne sa nel senso che andrea punta è stato responsabile comunale ha declinato un invito per essere confermato addirittura dalla parte avversa è stato se si può dire sempre con la schiena dritta quando si è dimesso perché l'amministrazione fontanini aveva un po snobato una cerimonia importante come era quella del ricordo di zamberletti se non vado errato ecco andrea punta è qui con noi e l'abbiamo chiamato perché e lo ringraziamo per aver accettato l'invito perché perché la protezione civile si trova a un passaggio abbastanza importante quasi storico direi tutto nasce come sempre da una palla di neve che cade da una montagna poi diventa una valanga muore un volontario della protezione civile in quelli di verzegni sera di preone e chi è di chi è la responsabilità del sindaco del coordinatore della protezione civile un caso più unico che raro in cui i volontari si assumono delle responsabilità enormi come ha visto questa vicenda e che esiti può avere ma sulla quattispecie della vicenda diciamo che per quanto riguarda la responsabilità c'è da definire una cosa ben precisa ovvero che se il sindaco è vero che autorità di protezione civile come autorità sanitaria di sicurezza eccetera dei compiti specifici per quanto riguarda il gruppo comunale di protezione civile in questo caso il coordinatore che durante le fasi di attività di protezione civile incarica al volontario quindi il capo squadra per quanto riguarda diciamo l'attività però prima di farlo fa tre cose ben definito vero sia certa che il volontario abbia la formazione adeguata per poter svolgere con la mansione con l'incarico questo proposto faccio un esempio l'uso delle motoseia ad esempio no oppure l'uso del cestello in quota un altro fattore importante affinché il coordinatore deve appurare che il volontario sia adeguato è l'idoneità sanitaria quindi assolutamente ha superato una prova fisica e sanitaria quindi la classica visita medica e poi l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale importanti perché quando si si appresta ad effettuare una mansione un incarico bisogna avere questi questi dpi in poche parole appurato questo diciamo che il volontario può fare qualsiasi cosa il problema è che poi si confonde la questione fino qui il sindaco coordinatore possono essere assimilati metto tante virgolette che volete a un datore di lavoro dopo di che la responsabilità in un certo senso scema certo ecco ecco che in questo caso c'è appunto stato questa problematica unica in italia caduta purtroppo fuori venenza giulia è appunto destato a livello sia ministeriale quindi ciriani in questo caso è il ministro della protezione civile neso musumeci affinché appunto ci sia un emendamento una nota una salvaguardia dove appunto si metta ben dei paletti si dicono appunto quali ci sono e i rischi e le responsabilità dei volontari quindi questo emendamento fortunatamente è già stato passato in commissione bilancio il dibattito è diventato appunto nazionale perché il caso preone al caso friule sostanzialmente andava intaccare anche situazioni per cui la protezione civile nazionale si doveva fare i conti con una con una norma che mancava sostanzialmente perché andiamo a metà metà dicembre probabilmente verso la fine dicembre ad approvare questo esatto andremo da provare questo commissione passato martedì ve lo do subito come notizia perché me l'ha girata appunto senatore delle osto della lega ci siamo incontrati sabato martedì passerà in senato quindi verrà votata in senato poi a montecitorio e quindi verrà pubblicata sulla gazzetta ufficiale si spera entro l'anno oppure i primi diciamo i primi primi giorni di gennaio 2024 ecco perché il rischio forte era quello di vedere la protezione civile che è una delle pochissime cose che funzionano in italia bloccata anzi a dire il vero la protesta era cominciata a muoversi dal futuro di venezia giul e poi probabilmente avrebbe investito le altre regioni con lo sciopero anche se in questi in questi termini non va usato però insomma con il fatto di rinunciare a dare il proprio la propria solidarietà come fa sempre la protezione civile quindi il rischio era nazionale il rischio nazionale era anche fondato tanto è vero che noi a udini in questi giorni proprio la zona è finita questa marcia questa cosa di teletone c'era anche il rischio che non potesse partecipare i nostri volontari a dare un supporto dare un ausilio lo avrebbero fatto lo stesso in maniera civile quindi la solidarietà che investe appunto perché la protezione civile non fa solamente attività per quanto riguarda le forze della natura ma fa anche attività per quanto riguarda sociale un esempio è stato teletone l'organizzazione l'organizzazione il supporto logistico il trasporto di cordone umbilicale il supporto alle automoteche e via dicendo quindi c'era anche questo rischio però nonostante questo l'avrebbero fatto pensi lei in maniera diciamo privata civile lo sciopero era al contrario era al contrario vi facciamo vedere che siamo così bravi che lo facciamo ugualmente perché appunto sono volontari e quindi lo fanno in maniera gratuita non sono equiparati al datore di lavoro e questa qui finalmente appunto tornando indietro prima questa norma prevede che il datore di lavoro lavoratore no che sanzito anche dal decreto legislativo e datore di lavoro non siano equiparati perché uno è diciamo a facoltà dirigenziale quindi mansioni diciamo da dirigente l'altro invece un lavoratore che può farlo anche più o meno con un contratto ma anche in maniera gratuita e in questo caso sono contemplati volontari di protezione civile lei è sempre sempre in trincea e quindi come come dicevo prima anche la anche la maggioranza l'attuale maggioranza aveva riconosciuto la sua la sua professionalità la sua esperienza come avevamo vissuto queste due tre settimane di fuoco perché cominciata i primi di novembre la questione c'era una multa c'era un erano indagati il sindaco il coordinatore eccetera eccetera la gente normale quelli come noi cosa cosa dicevano ma quelli come noi avevano un momento di smarimento perché ripeto essendo un primo caso che ci ha visti coinvolti la nostra regione la nostra tribula eccetera non sapevano effettivamente che pensi pigliare in primis l'assessore riccardi è stato il primo a praticamente a rivedere queste normative via dicendo l'agente comuni volontari comuni e senso di smarimento totale perché tu capisci che fai qualcosa di gratuito qualcosa in cui ci metti lo sottrai al tuo tempo libero lo sottrai la famiglia lo sottrai dal tuo lavoro in più viene anche punito no questo può star bene insomma assolutamente era da rivedere meno male che i tempi fra la in cui è stata recepita questa situazione in cui c'è stato questo errore sono stati molto molto bene capito facciamo un passo indietro perché nella presentazione ho detto una cosa che è importante quella questione della schiena dritta il fatto di non aver accettato da parte dell'attuale maggioranza che di un altro colore rispetto alla maggioranza di cui lei avrebbe potuto barra dovuto fare l'assessore la protezione civile il fatto che le propongano questa cosa fa parte di un gioco democratico molto importante però il rigore la coerenza le hanno fatto dire di no com'è andata effettivamente questo ma infatti beh insomma sono mai noti a tutti perché qualcuno neanche parlato quindi ma semplicemente sono stato contattato dal sindaco in primi proprio in persona e mi ha proposto non abbiamo ancora detto lega lega nord insomma no si è ovvio mi ha praticamente insomma proposto offerto la delega la protezione civile che aveva ricoperto con il sindaco Fontanini nella presenza dell'amministrazione apre una parentesi a dire una cosa che per quanto riguarda queste deleghe queste deleghe specifiche spettamente la protezione civile a mio avviso la protezione civile non ha bisogno di bandiere non ha bisogno di colore bisogno di gente appassionata bisogno di gente che voglia che sappia fare e che si metta l'unico cavillo purtroppo è il fatto che esiste una maggioranza una maggioranza che esistono dei partiti contrapposti quindi la mia schiena dritta come dice lei il mio fatto la mia coerenza ovviamente la mia appartenenza al partito eccetera ovviamente mi ha portato a declinare l'offerta pur sentendomi diciamo così insomma orgoglioso che me l'avesse proposta un sindaco di un altro colore di un altro colore senti invece c'è una battaglia ancora in corso non so se chiamarla battaglia o comunque c'è una vertenza in un certo senso che riguarda la sede la protezione civile di udine che mi pare abbia un percorso un po tortuoso nel senso che individuata la zona comprata l'area eccetera eccetera si doveva procedere mi pare adesso qualche ripensamento il consumo del suolo a che punto siamo dice bene lei consumo del suolo parto proprio da lì purtroppo questa maggioranza qui al cosiddetto fuoco amico cioè al suo interno a coloro che vorrebbero evitare la cementificazione via dicendo recuperando vecchi edifici per poter creare un'opera pubblica come potesse la nuova sede però ovviamente dimenticano che questo può andare bene per un discorso di appartamenti per un discorso di uffici per un museo ma non per una sede di protezione civile dove effettivamente ci sono dei canoni delle situazioni ben definite faccio un esempio la logistica bisogna stare nel largo comodi ci sono più di 70 iscritte quindi parcheggi adeguati c'è una situazione di viabilità perché usano dei mezzi non usano delle semplici macchine c'è un discorso ad esempio di aria di atterraggio d'elicottero l'elipiazzola è prevista nel piano d'emergenza e udine che è una trappoluogo è divisa in quattro parti e la sede di protezione civile diventerà praticamente atterraggio dell'elicottero in caso d'emergenza voi capite che bisogna fare c'è anche la vicinanza credo alla ferrovia no? si poi c'è la vicinanza ad uno scallo merci che è appunto in via Stiria lì vicino è successo l'anno scorso due anni fa che hanno portato la propria opera in Sicilia per gli incendi di cui noti e si sono fatti 1500 km in macchina quando bastava caricarle sul treno vagone e arrivavano tranquillamente quindi alla luce di tutto questo abbiamo scelto ma non noi amministratori sia ben chiaro abbiamo fatto scegliere ai tecnici cioè ai stessi volontari quale fosse la zona ideale la zona strategica per poter edificare la nuova sede ce l'hanno indicata lì e noi li abbiamo contentati ora che si contrapponga un po' questa situazione per quello che parlavamo prima penso che siano solo chiacchiere o in qualche maniera così ripensamenti però io sono sicuro fiducioso che a gennaio qualcosa anzi sicuramente si ritornerà alla vecchia situazione quindi finalmente il progetto possa partire. Una delle obiezioni che vengono fatte rispetto a questo problema riguarda come dire lo status della sede della protezione civile di Udine dice non è poi così importante perché c'è già Palmanova quindi possiamo farla anche non dico in centro ma insomma in zone più o meno a manico questa a qualche ragione questo tipo di obiezione? No non può avere ragione perché ripeto se noi dobbiamo capire una cosa ben definita un discorso è fare dell'emergenza un pronto soccorso come ad esempio la caserma dei carabinieri sta bene in centro no? Sta bene in un capologo in un paese alla stazione ad esempio sta bene in centro perché? Perché c'è la patuglia a piedi perché la gente può tranquillamente andare lì vicino su una campanella chiede parlare eccetera per quanto riguarda l'emergenza di protezione civile è diverso deve essere dislocata se noi facciamo casa in tutti i paesi in tutti i comuni la sede non è in centro è fuori per le ragioni di cui si parlava prima sono una questione di viabilità una questione ergonomica ci sono delle attrezzature ci sono dei generatori sempre accesi quindi un rumore tantissime cose che cercano di dare il meno disagio possibile alla gente ai residenti però al suo tempo c'è questo momento a raggiungere ecco perché sarebbe preferibile fare diciamo in un capannone predefinito oppure in una situazione leggermente fuori e dislocata del comune Senta per concludere che rapporti ha lei con l'assessore con l'assessore che si occupa di protezione civile? Con l'assessore Andrea Zinio un ottimo rapporto ci confrontiamo ci sentiamo periodicamente insieme cerchiamo in qualche maniera di venire a capo a questa azione come ha detto lei prima innanzitutto la nuova sede è piano piano adesso è prematuro dillo anche se manca poco ma posso già darvi un input uno spunto sicuramente a gennaio ci saranno i nuovi sviluppi Questo l'aveva già detto a questo punto ci dica che sviluppi ci sono Partidoro ovviamente nuova sede abbiamo comprato il terreno e cosa vogliono fare dobbiamo per forza fare una nuova sede basta è stata una mia creatura rivendico diciamo la paternità e voglio andare avanti io ho sempre detto che voglio collaborare con questa amministrazione dal punto di vista di protezione civile Con tutta questa amministrazione con una parte di questa amministrazione? Beh con quelli che hanno propensione diciamo attendenza a tutto quello che è sociale insomma quello che io prima ho fatto un peccato rifugiarsi mettere le mani davanti senza aver contribuito al completamento totale di tutto poi vedremo insomma sono quattro anni ancora Va bene grazie Andrea Cunta e complimenti buon lavoro Grazie a voi buona giornata Grazie a voi